Conferenza stampa di fine 2016 per il sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai che anticipa anche le spese e soprattutto in ambito di opere pubbliche verso il nuovo anno. Pochi sei mesi per parlare del lavoro svolto, certa però è l'impostazione che si pone soprattutto nella manutenzione. Sono sei mesi, che sono pochi in realtà in una legislatura, però sono stati sei mesi molto intensi dove sinceramente sono orgogliosa del lavoro che la Giunta e l'amministrazione tutta ha fatto perché abbiamo iniziato fin da subito ad affrontare i problemi più stringenti e abbiamo cominciato già a portare a casa importanti risultati che rispecchiano, come dicevo e questo ci tengo a sottolinearlo, gli obiettivi che avevamo nel programma elettorale quindi gli obiettivi che avevamo proposto alla cittadinanza e che loro hanno accettato perché tutto quello che la filosofia che noi stiamo portando avanti in questi mesi e che continueremo a portare avanti si rifà a quello che noi avevamo nero su bianco illustrato ai nostri concittadini che se ci hanno sostenuto e ci hanno votato è perché probabilmente vogliono, vogliono, desiderano che questi progetti vengano realizzati. Oltre 19 milioni di euro di stanziamento non solo tramite fondi comunali ovviamente previsti fino al 2019, nell'immediato però ci sono interventi alle scuole. La scuola primaria di Levani perché poi credo che i cittadini vogliano sapere nero su bianco dove finiranno questi soldi e a cosa serviranno, nella scuola primaria di Levani verranno investiti 546 milioni, 1.000 euro, nella scuola media di Levani 470.000 nella primaria di Mercatale 425.000 e per la manutenzione straordinaria invece della primaria Don Milani 493.000, oltre a 60.000 euro che sapete bene che erano già state investite nel 2016 per quanto riguarda la scuola del Pestello. Previsto poi a livello di manutenzione, Viaria ha un vero e proprio appalto esternalizzato con aziende private nelle intenzioni dell'amministrazione comunale.